Solidarietà alle donne iranianne, l'intervento video del consigliere comunale di Agrigento Roberta Ziccari. È soltanto un piccolo gesto ma anche io raccolgo l'appello delle iene. Donna vita libertà, un gesto di solidarietà per le donne dell'Iran. Una ciocca di capelli, la spediamo all'ambesciata dell'Iran a Roma, insegna appunto di solidarietà. Grazie.